salve a tutti e volentieri in questo video vi porto a rinisolation prende con c'è la vita e il video di sotto il canale è uscito ragazzi per dare un video e ragazzi nella scorsa video avevate visto che avevamo abbiamo cercato di andare da da san cristobal ma non ci ma non abbiamo trovato nessuna strada ma ragazzi dai oggi riprendiamo ok attiva il attiva il refri il refrigerante fatto ok poi c'è questo no 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 il c'è viene anche di qua ah no c'è ragazzi finchè non viene ok credo che è andato nei condotti dico ragazzi quello che a me sembra intanto eh fatto questo ma ragazzi qua avete visto quella porta si è aperto il portello si è aperto andiamo subito questo lo dobbiamo aprire veloce ragazzi facciamo le cose veloci ok non perdiamo tempo cos'è eh prendiamo questa non credo che non credo che ci sia altro da prendere vado 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 ho paura di quell'alieno maledizione ma ti inserisci fatto credo che adesso si aprirà anche quello si è aperto avete visto si è aperto anche quel portello ok l'alieno se ne è andato oggi credo che abbiamo una fortuna speriamo speriamo no questa per venire credo non venire ti prego cos'è che manca qui non lo so ok accesso al condotto togliamo questo accesso al condotto è fatta San Luis c'è una certa Lingard ufficiale medico superiore devo scoprire dove vengono tutto nel suo ufficio buono fortunatamente sbrigati se vuoi a ponte sbrighiamo tua madre è qua no alieno no 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 è qua ragazzi si è qua vicino ti prego vattene via vai via vai via come se non è andato se ne è andato va qua Ragazzi io sto rischendo la mia vita Vi giuro Maledizione mia Mi nascondo qua Guarda è venuto pure qua Appena in tempo Siamo nascosti Che bello no Una fortuna Se un ragazzo adesso ci prendeva Ricomincevamo da capo tutto Non ha problema adesso Cioè te ne vai che io devo andare nei condotti Quest'altra te ne vai da un'altra parte Perché io devo andare nei condotti Ok Te ne vai Te ne vai 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 dai Sì ma È qua Il problema è quello Io sapevo quando vi avevo detto grazie Credo che oggi abbiamo una fortuna Io sapevo che Tra poco avremo la sfortuna Io sapevo perché ragazzi sapete con me Nella mia vita reale Anche Succede così Se adesso è la fortuna Tra poco è sfortuna Bene Vedete che quell'aliena Se ne è andata Facciamo Le cose veloci Perché la torcia non mi attiva La sfusa tessuta Dovevo Gioco Si comandi No non il controller Maledizione Ah si Dovevo mettere Ah si dovevo mettere quel tastio Perché non mi attiva Il cosa Ecco Seleziona la torcia Eh fatto Solo che non mi attiva Maledizione Non mi attiva Non lo so Forse Forse è un bug No 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 Vai in un altro condotto Ragazzi 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 ho paura Vi giuro Raga Dai alieno Non dirmi che sei qui con me No E' dietro di me Quindi Aiuta Adesso ho un minuto Ecco qua ragazzi Credo che dobbiamo Venire Batterie per la torcia Fine Che ansia Questo Aiuto No niente Mi sono Spaventato Per nulla No Non devo andare da questa parte Deve andare Dall'altra parte Sì ma No da E' un po' lontano Di Da me Quindi Che sta succedendo Che sta succedendo Va bene In teoria E' E' lontano Di Da me E' speriamo Chiuditi Condotto Bravo Si è chiuso Il condotto Allora Allora Messaggio Per Messaggio per Lingard Quando ritorno Ho preparato Per il trasporto I pazienti Del Reparto Traumatologia E come ho potuto Wetz Vuole Chiudere L'area L'area Vado al piano Di sopra Al reparto E E Sighiatria Per Per Assicurarmi Che nessuno Sia rimasto Indietro L'ambulatorio E' vuoto Ormai Tutte le Le scorte Per il primo Scorso Il primo Soccorso E E i medicinali Di Sanni Cristobal Sono con te O da Qualche Par O qualche altra Parte Sulla stazione Spero Porterai buone notizie Morli Bene C Punto Non so cosa intendo Con C Punto Foster 14 11 C'è sarebbe 14 Novembre 2137 Causa del Decesso Informazione Riservata Poi A sotto C'è un altro Per Percorso Danneggiato Poi Questo Audio Niente Pubblicità Allora Pubblicità Pubblica Scusate Non pubblicità Pubblica Rapporto Registrato Rapporto Registrato Il 13 Novembre 2137 Autore Lingard Centro Medico San Cristobal Passare Studi Android Aiuto Qui E Lingard Ufficiale Medico Superiore Stazione Sevastor Voglio Mi hanno Fatto Prendere Un Infarto Voglio Mettere A Verbale Che Ho Subito Delle Costrizioni Riguardo Il Paziente Zero Che È In Fin Di Vita Ransom Il Capo Operativo Della Sigson Lui Ha Fatto Delle Minacce Riguardo La Mia Carriera E Le mie Certificazioni Voglio Registrarlo Ma Per L'amor Del Cielo A Quella Donna Serviva Aiuto Non Sapevo Che Tipo Di Parassite Avesse Incontrato Ma Le Aveva Impiantato Qualcosa Internamente Mi Dispiace Tanto Non Potevo Sapere Che Cosa Sarebbe Successo Ma Mamma Cerca L'Equit Medico Nella Sala Studiando Redi Mamma Quindi Significa Che Significa Che Noi Umani Che Ci Ci Cacciamo Nei Guai Non Colpa Degli Altri Per Colpa Dei Maledizione Non Voglio Morire Adesso Aiuto Lo Lo attirerà Tua madre Ho visto L'alieno Non Voglio Morire Adesso Ok Raga Ho visto L'alieno Vi Giuro No Aiuto Aia Mamma C'è No 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 Ah Mi ha preso Comunque C'è Perché 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 Oh Stavo Andando Bene Facevo Tutto Bene Perché C'è Non Ho Niente Da Dire Eto Ricominciamo Tutto Da Cap Facciamo Così Ragazzi Oggi Vi Concludo Che Il Video So Che Il Video Si Durato Poco Ma Comunque La Prossa Molta Se Riesco Lo Facciamo Durare Un Po Di Più Quindi Oggi Vi Concludo E Ci Te Al Prasso Video E Ciao